E come vi anticipavo, è proprio l'asfalto della pista che fa da palco alla presentazione della nuova multistrada V4 Pikes Peak. Certo, vedere una Ducati presentata in pista non è strano ma una multistrada. Beh, per questa nuova V4 Pikes Peak non è affatto esagerata la cornice del circuito, perché la sua dotazione e il suo carattere sportivo possono essere espressi al massimo del loro potenziale proprio tra i cordoli. Forte di una lunga storia di successi nelle competizioni, Pikes Peak rappresenta da sempre l'essenza della sportività nella famiglia multistrada. E la nuova V4 Pikes Peak alza ulteriormente il livello. Non è solo la multistrada più sportiva di sempre, ma anche la dual più performante dell'intero segmento. Un posizionamento così forte è possibile proprio perché questa moto è l'evoluzione sportiva votata all'asfalto del carattere dominante multistrada V4. Ritroviamo dunque le prestazioni e l'affidabilità offerte dal motore V4 Gran Turismo. Il peso ridotto, la facilità di guida, il comfort per pilota e passeggero e lo stato dell'arte dell'elettronica. Ma abbiamo reso V4 Pikes Peak diversa dalla moto di partenza come mai nella storia. È talmente diversa che abbiamo addirittura definito una posizione di guida specifica, introducendo tutto ciò che rende immediatamente riconoscibile ogni supersportiva Ducati. Ruota anteriore da 17, cerchi forgiati e alleggeriti, forcelle Hollins e l'inconfondibile forcellone monobraccio posteriore. Una dotazione che già elencarla fa accelerare il battito cardiaco. Ma c'è Alessandro in pista! Grande Nick! Grande Ale! Visto che mezzo! Allora che effetto ti fa guidare questa multistrada V4 Pikes Peak? Beh Nicola, per risponderti tecnicamente con una parola sola posso dire wow! La nuova multistrada V4 Pikes Peak è una moto sorprendente. Salire su una dual così comoda, confortevole, maneggevole e dal carattere così sportivo è veramente impensabile. Eppure appena apri il gas la facilità di guida diventa pura prestazione. Maneggevolezza è la parola d'ordine, l'agilità nei cambi di direzione è inimmaginabile per un veicolo di questa categoria. Ma la multistrada Pikes Peak sorprende soprattutto per quella capacità di chiudere la linea già avvertibile in inserimento di curva, che poi viene mantenuto anche in applicazione di gas per girare molto, molto stretta. Questa moto va dove volge lo sguardo del pilota. Sembra di guidarla davvero col pensiero. Abbiamo lavorato in fase di sviluppo soprattutto per esaltare al massimo la sensazione di controllo per il pilota, con la nuova ergonomia dedicata per massimizzare l'impostazione sportiva e la V di piega. E del motore che cosa ci puoi dire? Beh, il motore è quel gioiello del V4 Gran Turismo, con tutte le caratteristiche di potenza ai vertici della categoria e quella fluidità caratteristica che abbiamo imparato a conoscere sulla multistrada V4. Per renderlo Pikes Peak abbiamo lavorato sulle mappe Rai By Wire per ottenere una risposta del gas più diretta, per i riding mode sport e race, sulla strategia delimitatore RPM e sul quickshifter, velocizzando le cambiate in pieno che assieme al nuovo Ducati Wheelie Control di derivazione panigale massimizzano la performance in accelerazione e conferiscono al multi V4 Pikes Peak un comportamento da vera racing bike. E nel misto come si comporta? Qual è il feeling? La multistrada V4 Pikes Peak è affilatissima. Oltre a tutte le caratteristiche di agilità di cui ti ho già parlato, la moto è equipaggiata con le sospensioni Hollins Smart EC Event Based che utilizzano la stessa tecnologia della panigale V4S. È una dotazione che offre grande supporto e sensibilità al pilota su ciò che accade sotto le ruote e garantisce il miglior setup in ogni fase di guida, quindi risulta sempre molto fluido e stabile anche in condizioni di asfalto non perfetto. Poi c'è la frenata. Preparatevi a raggiungere decelerazioni da vera superbike con un solo dito. Grazie all'impianto completo della panigale V4S la moto si controlla in frenata con una facilità e una serenità che ti lasciano concentrare al 100% sul divertimento. Diciamo che se siete quelli che vogliono frenare tardi, chiudere la linea più interni ed accelerare prima di tutti gli altri, la nuova multistrada V4 Pikes Peak è la vostra moto. E vedo che anche con l'abbigliamento non scherzi. Sì, abbiamo studiato tuta e casco così come il resto dell'equipaggiamento, appositamente per garantire la massima sicurezza e performance in pista. Casco integrale e tuta racing certificata Ducati Corse sono specifici per la guida sportiva e mi accompagnano anche e soprattutto durante i miei test. Durante lo sviluppo è fondamentale usare l'abbigliamento tecnico più adatto per sentirsi comodi, sicuri e potersi concentrare sulla guida al 100%. E ormai ti dirò, questa è diventata un po' la mia seconda pelle. Grazie mille Ale, non potevi essere più chiaro. Alessandro Valia ha citato davvero tante caratteristiche tecniche che determinano il carattere Pikes Peak e consegnano al pilota queste emozioni così sportive. Grazie mille Ale, non potevi essere più chiaro.